Musica Ve ne sarete accorti? Questa non è una diretta televisiva, o meglio, è una diretta televisiva di una diretta Facebook. Siamo praticamente sperimentando qualcosa di nuovo, mai provato, intanto che ve lo racconto raggiungo lo studio, per farvi capire quelle che sono ormai le potenzialità incredibili, enormi, di tutto quello che riguarda il mondo di internet, dei cellulari, perché io ora mi sto collegando da un cellulare, di quelli che sono i social network con le ultime novità proprio di Facebook, che propone le dirette. Guardate, sto entrando nel nostro studio, siamo in diretta, c'è Nicolangeli che tra poco comincerà a parlare, ci sono i nostri ospiti, eccoli qui. Di cosa parleremo questa sera? Parleremo ovviamente di qualcosa che fa parte ormai in maniera totale della nostra vita. Chi la chiama dipendenza, chi la chiama la nostra parte sociale, chi la chiama la scatola della nostra vita, sono gli smartphone con cui noi ci connettiamo col mondo costantemente, tante volte. A volte è un divertimento, a volte è un far parte così del mondo attuale, a volte diventa dipendenza, addirittura patologia. Parleremo di tutto questo e allora io do subito la linea a Nicolangeli. Contro tutto e tutti noi riusciamo anche a creare questa situazione in cui facciamo prima la diretta Facebook e poi andiamo con la diretta televisiva su Dinese TV. Siamo riusciti a vincere lo straccismo dei tecnici e a fare questo piccolo esperimento con Giorgia in questa avventura dove discuteremo di smartphone, di connessione, di sconnessione, iper sconnessi come dice il titolo della nostra puntata dello speciale del TG. In questa cyber avventura, diciamo così, non poteva mancare Giorgio Yannis, esperto di social media, buonasera Yannis. Buonasera Nicolò. E il dottore Enrico Morati del CERT di Udine, buonasera dottore. Buonasera. Che si occupa anche di seguire quelle che sono le patologie legate appunto all'uso eccessivo di social media, di smartphone e di tutto quello che riguarda, diciamo, la civiltà digitale attuale. Uno spunto simpatico, prima di partire con la nostra discussione, preparando un po' la puntata, ci è stato dato dal film Perfetti Sconosciuti. Allora, voi sapete, è un film recente dello scorso anno, c'era un giochino, insomma, in cui questa compagnia, tra i quali anche l'udinese Giuseppe Battistone, si trovava a cena a casa di amici e a un certo punto si dice facciamo un gioco, lasciamo tutti i cellulari sul tavolo e controlliamo quello che si scrive, no? Partendo dalla logica che c'è una vita pubblica, una vita privata e una vita segreta. All'inizio tutti sono, diciamo, entusiasti dell'iniziativa, chi più chi meno, poi la cosa va un po' scemando e scivola nella criticità totale. Noi abbiamo fatto la stessa cosa con i nostri cellulari, a parte quello di Giorgia, che in questo momento lei sta usando, esatto, e dopo capirete perché, insomma. Intanto però andiamo con la clip da Perfetti Sconosciuti, e dopo Giannis ci spiega anche perché ha scosso la testa. Allora io? Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti. Ah, eh, voglio. Il segreto ci vuoi avere. Magari, ci conosciamo tutti a memoria. Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, whatsapp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Ora ti spiego. Ma che vuoi spiegare? Questa ha scritto, ho voglia di scovare. Tante volte poi c'era il T9, eh? Che cazzo dici per te? Diretta a me, sei troppo innamorato di mamma per capire quanto è stronza. Ne ho trovato un pacchetto di preservativi nella borsa. Oddio se capitasse a Rosa. Amore, Rosa compie sei anni a giugno. Io non ne so mica se sarei una brava mamma. Ma perché sei incinta? Oh, allora la vostra. Non c'è ancora niente da brindare, carino. Beh, già fatta che qualcuno scopa. Oh, 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 oh. Questi cosi ci stanno rovinando l'esistenza, ci stanno portando via il privato. Io se hai un amante non lo voglio sapere. Parla, parla, sono due migliori amici, magari anche loro vogliono sapere, no? Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tu, tutta rifatta, io senza parole. Dammi quel telefono. Dammi quel cazzo di telefono! Giola. Siamo amici da quando siamo ragazzini. Ma vuoi dire chi sei? Oh, mi dici da quanto dura! Che cazzo? Steve Jobs. Ma non era morto. Invece se era vivo chiamava mia moglie. Ecco, avete capito perché il perché dei telefoni sul tavolo, ovviamente il mio è quello che si illumina di più. Adesso mi sento un po' imbarazzato, un po' ringalluzzito. Diciamo subito che non vogliamo sapere i segreti di nessuno. Non andremo a leggere messaggi Whatsapp né a indagare su chi vi chiama, però cerchiamo di capire nell'oretta che passeremo insieme quante volte il cellulare vibrerà o si illuminerà, eccetera, eccetera. Tra poco metto anche il mio, eh. Ottimo, non volevo che tu stessi fuori da questo gioco, è importante. No, stavo tenendo la diretta Facebook e tra poco interromperemo, poi la riprenderemo più tardi, vi avviseremo, anche perché ci stanno già arrivando un sacco di messaggi, tipo c'è chi ci aggiorna sulla partita di Champions. Sì, non so se sono risultati reali e potrebbe già mettermi in difficoltà. Non lo so neanch'io, però anche quando avremo finito questa diretta Facebook, sulla pagina Facebook di Udinese TV, voi continuate a commentare e a mandarci i vostri commenti sugli argomenti che tratteremo, così li commenteremo qui in tempo reale. Ok? Possiamo partire, spengo la diretta Facebook e continuiamo con la diretta TV. A più tardi su Facebook. Giorgio Iannis, perché scuotevi la testa quando ho detto, no, un gioco divertente? O mi sbaglio? Perché appunto, presentando il film, hai detto che tutti i partecipanti alla tavola del film proprio, tra cui Battiston, hai detto, forse esagerando, poi di fatti hai ricalibrato la tua posizione. Hai visto? Perché in realtà è abituato a fare il paravento. È micidiale, è un gioco che vent'anni fa non si poteva nemmeno comprendere cosa significasse. Lasciare questi fari, queste sentinelle, queste piccole boi di segnalazione, che sono le notifiche che arrivano di WhatsApp, che sono qualcosa che rimanda, in qualche modo è un collegato, è un indice, è un sintomo collegato, un segno di qualcosa che avviene nelle altre nostre vite. Prima volevo salutarti con un altro vocione, diritti buonasera Nicola, e tu mi avresti sicuramente detto, ma come mai ti presenti con questo vocione? Perché per aprire subito una parentesi, che era quella... Dopo l'abortodossi hai depositato il suo cellulare, il suo smartphone, quindi questa è già una notizia. Per ragionare di identità, quella che una volta era l'unica identità, c'erano modi magari per camuffare, c'erano delle lettere di carta, potevamo giocare dei ruoli diversi, delle partecipazioni sociali diversi, fingerci chi non eravamo in altri modi, ma era sempre necessaria una corporeità. Viviamo appunto iperconnessi o ipersconnessi, come dice il titolo, quello che si è moltiplicata è la nostra possibilità di giocarci in contesti diversi, ludici, professionali, amicali, affettivi, in amori segreti o palesi che siano, identità diverse, con cui noi siamo persone diverse che giochiamo su più tavoli da gioco, per così dire. C'è un'idea, non un'idea, un dato effettivo, che è quello degli iscritti a Facebook, che sono oltre 2 miliardi nel mondo, mi sembra, e quindi se fosse una nazione sarebbe la più grande nazione del mondo. Sì, te lo leggo, guarda, così lo prendiamo anche da web con i dati precisi. Benissimo. Se Facebook fosse uno stato sarebbe il più grande del mondo, con quasi 2 miliardi di utenti ha superato la popolazione della Cina e dell'India. Ora chiaramente sappiamo che il social è in assoluto più usato in tutto il mondo. quello che volevo mostrarvi erano le dichiarazioni, se ce la faccio, ma certo che ce la farò, di colui che ha inventato Facebook, Zuckerberg, che è chiaramente il genio del secolo, o quello che ha fatto più soldi del secolo, che fa un po' l'inno a Facebook, ne spiega un po' il significato, e dice Facebook esiste per dare sostegno, unire, garantire e informare. Ma che belle parole, eh Giorgio? Facebook, oltre a 2 miliardi nel mondo, vuol dire anche 28 milioni almeno di persone in Italia, vuol dire quella che è una pratica quotidiana di accesso alla rete che è ben superiore ai 12-13 milioni di persone, ovviamente il sorpasso anche nel campo dell'informazione dei quotidiani avvenuto dalla diffusione degli smartphone, dei telefoni cellulari connessi, farei notare sicuramente che, appunto, dicevo, 20 anni fa queste cose non erano neanche ipotizzabili, un simile gioco tra backstage, palco, dietro un sipario, le nostre messe in scena dell'identità. YouTube, come Facebook, come molte cose, come lo stesso iPhone, quindi il telefonino, sono del 2006, quindi sono dieci anni, in dieci anni sono avvenuti cambiamenti radicali, radicali, ma completamente. Noi stiamo vivendo delle cose che, ripeto, era, qual è il gioco? Scoprire chi riusciva dieci anni fa, oltre a dire, anche semplicemente a pensare, quello che sarebbe potuto succedere in seguito all'introduzione di tecnologie ubicue che noi indossiamo quotidianamente, che ci accompagnano quotidianamente, dicevo, noi abbiamo delle medie, parlo italiane, di compulsare, di frequentemente verificare cosa è successo su Facebook, quanti like, chi commenta chi, la notizia di cronaca del giorno, e questo lo facciamo dieci, venti, trenta volte al giorno. Questo non può non modificare i comportamenti sociali, individuali e di gruppo, a cui noi apparteniamo, una volta con la nostra faccia, ora con le nostre molte facce. Con le nostre avatar. Certo, dispersi nella rete. Ecco, a proposito di comportamenti e di modifiche di social network, in questi giorni Monica Nardini è data in giro per la città, soprattutto nei locali, nei ristoranti, a vedere un po' come si comportano i giovani, anche quelli un po' più grandi, con i loro telefoni. Sono uscite delle dichiarazioni abbastanza simpatiche, anche da parte dei gestori, che vedono un po' a loro volta come utenti, però anche come esterni, come si comportano le persone con il telefono a tavola. Vediamo il servizio con le interviste. Il messaggio parla chiaro, ma viene rispettato? No, non tanto. Si chatta di continuo, ma adesso sarebbe anche da cambiare quel messaggio, perché dopo aver sentito anche i loro discorsi, forse è meglio mettere wifi. Due persone che sono insieme da mezz'ora, non credo che sappia uno che colore ha la maglia, dall'altro che ha la testa sempre sul cellulare. Si chat o si parla ai tavoli, in base alla sua esperienza? Ma secondo me i giovani tendono di più a chattare e a usare la tecnologia, invece gente della mia età, un pochino anche più su, ovviamente parla di più, molto di più. Ci si parla ancora guardandoci negli occhi, però spesso ci si chatta anche tra vicini, cioè spalla a spalla ci si chatta, forse per gioco, forse perché non si riesce a fare meno dell'uso del cellulare quotidianamente, continuamente. In questo vede differenze nell'età o insomma ragazzi e adulti si comportano allo stesso modo? No, gli adulti meno, chatano meno, forse per culturalmente non sono abituati, invece i ragazzi lo usano spessissimo, proprio spessissimo. Hanno bisogno del wifi. Quindi ormai il caffettino è il wifi? Yes, proprio così. Si parla perché per scelta non abbiamo il wifi nel locale, quindi non so se è per questo o se è per altri motivi, però insomma vediamo le persone parlare, poi dipende anche dalla fascia di età ovviamente. Sono state comunque delle proteste per questa scelta del wifi o insomma è stata commentata positivamente? La clientela della mattina ovviamente non nutre interesse in merito, qualche giovane magari l'ha richiesto però insomma non si lamenta, qualche turista forse rimane un po' deluso nel non trovare quello che alla fine diventa un servizio. Lei lavora in un ristorante, che percezione ha della situazione? Non è gradevole sinceramente perché guardando i commensali a tavola che non si guardano proprio neanche in faccia molto spesso è una cosa, non è bella da vedere insomma. Proprio durante le cene anche capita di vederli con lo sguardo basso? Cioè non guardano neanche il menù, l'unica cosa è hanno il menù da una parte e il cellulare dall'altra. Dai uno che si siede a tavola è possibile fare una cosa del genere? Io credo di no. È così però eh? È così, lo vediamo tutti no? Eh sì, sì, per forza è così. Però ecco cerchiamo di capire, poi andremo anche a fare un focus sugli adolescenti perché poi tutto quello che è legato ai telefonini, alle varie dipendenze, chiamiamolo così da telefonino assume un nome improvvisamente e andremo a scoprire i nuovi nomi delle dipendenze da cellulare. Però ecco io volevo capire dal dottore quando tutto questo diventa dipendenza, diventa patologia, diventa bisogno di andare a curarsi. Penso si debba fare un po' una premessa perché proprio legata alla diffusione dell'uso di queste tecnologie cioè bisogna che riusciamo a capire se siamo veramente di fronte a un'epidemia di una nuova dipendenza oppure se siamo di fronte a una nuova normalità. Questo penso sia la prima riflessione da fare perché per parlare di patologia vera e propria, per parlare di un quadro di dipendenza se si parla di dipendenza io almeno devo riportarmi a quelli che sono i criteri per parlare di dipendenza e quindi posso dire che ci può essere, che questo utilizzo può diventare una dipendenza quando è un qualcosa che non si riesce a controllare, quando è un qualcosa che è sfuggito al nostro controllo e quando compromette, compromette in modo importante alcune sfere, la sfera relazionale, la sfera lavorativa, la sfera degli studi, la sfera economica e così via della nostra vita. Cioè quando diventa la cosa più importante, l'unica cosa che ha senso, che ha significato nella vita di una persona. Lì parlerei di patologia, se no il discorso deve essere, come dire, deve seguire un po' anche i tempi, i tempi in cui ormai siamo tutti abituati a convivere con, diciamo così, una vita reale e una vita virtuale, in cui siamo costretti anche a convivere con una vita reale e con una vita virtuale, certamente a qualcuno può sfuggire la capacità di riuscire a integrare, di riuscire a controllare queste due componenti e farsi prendere soltanto dalla vita virtuale. Lì siamo nell'ambito della patologia. Ci sono tante persone che poi si rivolgono a voi, cioè chi è il dipendente da nuove tecnologie? È giovane, è di mezza età, è donna, è uomo? Si può fare un identikit? Innanzitutto c'è da fare una precisione che non è che sia la dipendenza da internet o la dipendenza da nuova tecnologia, sia la dipendenza da qualche attività, ad esempio da internet. Con internet si può accedere al gioco online, al gioco d'azzardo, si può accedere a delle relazioni online, si può accedere agli acquisti e così via, si può accedere ai siti pornografici e così via. È l'attività, è quel tipo di attività che diventa l'oggetto della compulsione. Per cui uno diventa dipendente, è stato vero che si distinguono diversi tipi, ad esempio, di dipendenza tecnologica, di dipendenza da internet, di dipendenza da relazioni virtuali, da sesso virtuale, dal gioco online, dal gioco offline, dall'overload, come viene detto, delle informazioni. Per cui si va a ricercare in modo ossessivo e si accumulano informazioni che poi non si riesce neanche in qualche modo a categorizzare, a inquadrare. Per cui da noi quei casi, per ora molto contenuti, che arrivano, sono che cosa? Sono legati ad esempio a una compulsione, a un accentramento, a un interesse eccessivo, a un spendere in modo eccessivo il proprio tempo, le proprie energie, non so, ad esempio, su dei giochi, su un gioco in particolare, oppure viceversa, su uno shopping compulsivo che sia via online e così via. Anche perché dobbiamo ricordare che internet, questi strumenti, ci offrono dei grandi vantaggi, nel senso che acquistare, giocare, eccetera, lo posso fare anche in altri luoghi, lo posso fare in tante situazioni. Però internet mi consente, che cosa? Mi consente un'accessibilità facilissima e in qualsiasi momento posso accedere. Posso accedere al casino online, posso accedere al sito pornografico, posso accedere alla chat per adulti, posso accedere al gioca in borsa e così via. E poi mi consente, che cosa? Un'altra dimensione importantissima che è quella dell'anonimato, per cui mi sottrago al giudizio, non mi espongo al giudizio dagli altri. E questi sono due elementi importantissimi che possono facilitare l'intrappolamento. Non vibra granché lì, eh? Non siamo così sociali, caro. No, io ho tolto tutte le vibrazioni dei messaggi di WhatsApp, quindi sono immunale. A meno che non mi chiami qualcuno. Prima si illuminava, ero orgoglioso perché ero l'unico con lo schermo che si illuminava. Allora, a tal proposito, cioè quello che può anche rappresentare, voglio dire, come un collegamento favorevole, positivo per quello che riguarda la rete, o come viene vista in maniera, diciamo, con un buon favore, ecco oggi c'è arrivato un messaggio di Giancarlo Stocco, che è storico del rugby udine, mentre stavamo facendo le prove, ha detto, ah bello, interessante, una cosa simpatica, questo argomento che trattate stasera. Noi quindi rendiamo anche la nostra diretta interattiva, pur essendo arrivato il messaggio prima, però Stocco dice, i saluti a parte, dice, pensa, quando siamo in trasferta, vi saluto dall'Arabia Saudita, quando siamo in trasferta per tutti noi, il cellulare diventa un importante passatempo, un mezzo di comunicazione e di collegamento con la famiglia, ma effettivamente anche una dipendenza. Quando salta la linea Wi-Fi e rimaniamo senza per qualche ora, è panico al limite della disperazione. Verissimo, ne siamo dipendenti. Giannis, insomma, come possiamo dire di no in questo caso? Come negare. Quindi questi sono i risvolti positivi, forse, no? Di tutto questo, più positivi? Ripeto quanto ho detto prima, se vogliamo trarre giudizi facciamolo, però è un fenomeno che c'è da dieci anni, che ha radicalmente modificato i comportamenti di miliardi di persone, di decine di milioni di persone in Italia, dentro giovani generazioni, che ricordiamo non è che siano bambini di 5 anni, magari ne hanno 25 o 30, e sono praticamente, sono millennial, sono nati dentro un ambiente tecnologico ben differente, dieci anni da YouTube, da Facebook, dal telefonino. Si possono dare giudizi, certo, su tutto quanto quello che è stato detto finora riguardo a dipendenze, nei vari tipi, nel modo in cui la personalità viene stravolta, nel quindi diventare dipendente, nel dover completamente dedicare, o addirittura perdere la propria vita dietro a fenomeni di gioco, di porno, di relazioni, di informazione, che è molto importante anche l'accenno, sono cose sicuramente oggettive di cui si può parlare. Ci possono essere anche un po' i drogatti, diciamo, da informazione sul web. Ah, certamente, certamente. Avevo visto uno spettacolo a teatro un po' di anni fa, un po' a Tessignano, dove si raccontava la storia di un personaggio totalmente dipendente dal nozionismo di Wikipedia, non qualsiasi cosa che si... vedi, vedi, non eri tu il protagonista, eh? No, però... No, però io credo che lo siamo abbastanza tutti, no? Sì, esatto, quella lì, abbiamo un sistema sensoriale, perché da quando eravamo animali poco evoluti, poi abbiamo bisogno di quote, di informazioni dall'ambiente che ci arrivino, per poi addroneggiare l'ambiente, e quindi poter, in qualche modo, garantirci una sopravvivenza. viviamo in un ambiente cognitivo ipermoltiplicato da stimoli, che quotidianamente ci arrivano. Un uomo del Settecento leggeva forse dieci libri, un uomo acculturato del Settecento, forse leggeva... Un uomo del nostro livello, dici? Sì. Leggeva forse dieci libri in tutta la sua vita, no? Qualche periodico, gli almanacchi lunari, gli sicuramente una Bibbia. Ora quella quota lì è quella che noi ci passa davanti in cinque minuti di frequentazione della rete. Quello che volevo dire prima è che non posso non tener conto del fatto che camminando per strada o al ristorante, ma lì anche questione di galateo, di educazione, con cui bisognerebbe decisamente rispondere a quelle critiche, noi vediamo le persone con il telefonino in mano. Sembra di vedere fantascienza anni Sessante, che avevano il visore per restare collegati con Base Luna, e la dipendenza, ripeto, è una questione profonda, cioè emotiva, affettiva. Quando le persone perdono, ad esempio, e vi è letteratura sull'argomento, sia di tipo scientifico, accademico, sia di tipo narrativo, come forma di romanzo, per dire, le persone che perdono il cellulare non è che perdono un oggetto tecnologico, perdono pezzi di vita, che siano mille foto archiviate, che siano tutte quante le chat avuti con due, tre, con dieci amori, le modalità di fidanzamento. Dieci è tanto, comunque, capisco che si esagera. Perché i tempi sono veloci, no? Quindi... È vero, si consuma tutto in fretta. No, con gli SMS avevi due o tre amori in dieci anni, con Whatsapp ne hai quindici, no? L'amore ai tempi di Whatsapp, no? Parafrasando García Márquez, no? Era una settimana fa che c'è stato il blocco di Whatsapp per due ore e quindi tu andavi su Google, ti veniva spontaneo, scrivevi Whatsapp non va e capivi che già c'era tutta una serie di persone che l'avranno cercato e già tutta una serie di spiegazioni. Dieci minuti dopo, al momento in cui ti eri accorto che Whatsapp non andava. Certo. Si chiama panico, credo. Si chiama panico? Tecnicamente, sì. Ecco, io e Giannis bypassiamo perché usiamo solo tele, Telegram per comunicare con un'altra applicazione di messaggi e quindi siamo rimasti immuni, vero Giorgio? Cadrà anche Telegram. Quando arriverà un altro? Mi arriverà un altro. Ma comunque non è soltanto relazioni in serie, una dopo l'altra, parlavamo di relazioni affettive. Perché lì si va a parare alla fine, no? Sì, se vuoi parliamo anche di come la gente voterà tra poco col cellulare se non vengono bloccati o di altri aspetti civili o civici del nostro avere un oggetto connesso in mano. Però sono anche, rifacendo il mio discorso prima, dei ruoli che noi impersoniamo, possiamo ragionare anche di relazioni parallele che noi intratteniamo. Noi siamo persone diverse, questa cosa è appurata da ragionamenti di tipo, da psicologia, social, o da qualunque deriva accademica. persone diverse in ambiti diversi, se hanno solo un figlio, un marito, un padre, un amante, un insegnante, qualunque altra cosa. Dentro la rete, che appunto ha moltiplicato i contesti in cui io posso esprimere me stesso, chi ci ha rinunciato cerca di essere se stesso. Anche, ovviamente, non sappiamo cosa vuol dire essere se stessi, perché dipende dai luoghi in cui parliamo, dove noi ci esprimiamo, la scopriamo chi siamo. Se ci sono luoghi nuovi in cui parlare, come la rete offre, che sia un forum di chitarre elettriche, che sia Facebook, che sia Reddit, che sia una chat, lì scopriamo nuovi modi di essere noi stessi. Parole nuove, scelte lessicali, costruzioni grammaticali diverse, personaggi diversi, da una parte siamo più bonari, dall'altra parte invece siamo inflessibili, cinici o persone giudici che devono esprimersi. Il riferimento, qua vado a nozze con Nicola Angeli, ovviamente sono i commenti dei quotidiani. Bene, ci abbiamo fatto anche troppe puntate per quello che mi riguarda. Lì c'è un'antropologia nascente che merita assolutamente discussione. Dopo approfondiremo questo discorso, però è una cosa importante. Certo, vada dottore. A proposito di commenti e di identità diverse, pensavo a quel personaggio di Crozza, Napalm, mi sembra Napalm del 51, come si chiama. Un po' modulato su John Goodman, nel grande Lebowski, almeno a livello di lupo. Che passa la sua vita connesso a dare giudizi, a arrabbiarsi, eccetera. Cioè che vive lì la sua vita. Allora, quella è una forma disturbata di partecipare alla vita. Utilizzare, viceversa, in altro modo il cellulare, il PC, eccetera, è un modo anche per arricchire, può essere un modo per arricchire la vita. Questi strumenti possono essere utili a scuola per l'apprendimento, ma possono essere anche impiegati, ad esempio, nel nostro ambito. Sono state messe appunto delle app per curare le dipendenze. Ah, diventate. Quindi c'è sempre il risvolto positivo. Positivo e economico. Ecco, si tratta di cogliere, si tratta di cogliere e di valorizzare l'elemento pubblico. Ovvio, così spulciando per forza di cose su internet in questi giorni, preparando la trasmissione, abbiamo recuperato anche un articolo, credo fosse un pezzo di Donna Moderna, no, Giorgia? Sui rischi dei ragazzi perconnessi, dove codificavano un po' le... perché se per noi è una vera rivoluzione, per noi che siamo nati prima di tutto questo, per loro è praticamente la normalità, una normalità che comunque si può ben definire. Vado a leggervi questo articolo, Adolescenti perconnessi, le nuove patologie che preoccupano sono like addiction, vamping e challenge, per esempio. Allora, partiamo da, per esempio, la dipendenza da WhatsApp. Il 99% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni utilizza WhatsApp ogni giorno. Il 93%, no, dagli 11 ai 13 anni, il 96% utilizza WhatsApp, quindi si comincia davvero presto, insomma, 11 anni si usa WhatsApp tranquillamente, eccetera. Poi, il fenomeno del vamping, che cos'è? Le notti insonni degli adolescenti, ovvero la moda degli adolescenti di trascorrere numerose ore notturne sui social media, diventata un'abitudine per molti di loro. 6 su 10 dichiarano di rimanere spesso svegliati, svegli fino all'alba a chattare, parlare e giocare con gli amici oppure con il fidanzato o la fidanzata, qui, insomma, è un problema di sonno. Poi, la FOMO, attenzione, che cos'è? Fear of missing out, cioè la paura di essere tagliati fuori. Quindi, tenere sempre a portata di mano il telefono, anche di notte, per non perdersi nulla di quello che succede. Questa è, sì, ci stiamo abituando tutti, non solo gli adolescenti. Poi, la like mania e la follower mania, quindi questa continua ricerca di approvazione, di avere dei like su un proprio video, su un proprio post, di avere più follower di un altro sui vari social. Questo è un altro problema. E poi c'è quella che, adesso vi ripesco, che si chiama nomofobia e che è, invece, la paura, diciamo così, di che si scarichi il telefono. Cioè, quando cominciamo a vedere che la carica è poca, entriamo in questa sorta di terrore mentale, eccola qui, che si chiama la nomofobia, neologismo che deriva da no mobile phone, la paura eccessiva di rimanere senza telefono o senza connessione ad internet oppure, appunto, che il telefono si scarichi e non lo possiamo utilizzare per un po'. Poi, ovviamente, il bisogno di apparire ad ogni costo, questo lo vediamo, i selfie continui da ogni dove, no? Cioè, c'è una quantità di foto da ovunque, anche cose sulle. La patologia di Fernando Siani. La patologia di Fernando Siani. E poi ci sono questi challenge, che forse sono i più pericolosi, le sfide social, tipo, chi riesce a mandare giù più bicchieri di vodka in pochi minuti, oppure chi, tra le ragazze pelle d'ossa, è in grado di far girare un braccio dietro la schiena fino a toccarsi l'ombelico. C'è tutte queste robe qui, sfide social, che, appunto, riguardano il cibo, piuttosto che, soprattutto, la tenuta alcolica, che, appunto, vengono, vengono fatte sui social. Questo mi sembra una delle cose un pochino più, così, pericolose, no? Il resto è quasi, è quasi normalità un po' per tutti. Forse avevano dedicato una puntata, anche, alle morti da tentativi social, no? Di emulare qualcuno, ricordo male, Iannis. C'erano dei riferimenti, sì, di comportamenti aberranti, indotti da mode mediatiche, qualcosa mi ricordo anch'io, sì. Tipo farsi le foto in posti improbabili, no? Molto pericolosi, in cima, a tralicci, o cose del genere, no? Ma credo che una classe scolastica sia stata ripresa da un preside della bassa friulana, perché in gita la sfida era farsi fotografare o farsi dei selfie sul cornicione dell'albergo, terzo o quarto piano. Sì, questa è la zona di Cervignano. Una cronaca, una cronaca recente, infatti. No, posso fare nomofobie, in realtà avrebbe un suo etimo, no? Diverso. Infatti, è una paura della regola, della regola fondante della socialità in particolare, e il fatto che si abbia paura di un nomos, di una regola fondante, di una legge... Di una gru norma. Sì, però è particolare per gli adolescenti che proprio è l'età in cui, no? Rispetto al... È maggiore la voglia di trasvedire o è maggiore la voglia di... Sì, Dalla parte di non stare alle regole, dall'altra parte forse anche il bisogno però di avere... È il gioco del limite dell'adolescenza. Però la trasgressione adolescenziale c'è sempre stata, no? Adesso con questo tipo di supporto assume connotazioni differenti, no dottore? Forse più che connotazioni differenti sono questi, come dire, questi strumenti danno una maggiore enfasi, danno una maggiore... Passo dietro perché riparto con la diretta Facebook, finisca pure... Non so, le sfide a chi beve più bicchieri di alcol, di vodka e così via ci stanno anche senza il... Senza... Il supporto mediatico Senza il supporto mediatico Il supporto mediatico ti dà una visibilità maggiore. Questo senz'altro è un qualcosa che accentua, che favorisce il comportamento però il comportamento c'è di per sé, c'è sempre... Adesso forse c'è un po' di più però c'è sempre stato cioè questa voglio dire dire questo... Sì, l'ho iniziato certamente dieci anni fa con questa evoluzione tecnologica. Dottore, io adesso lancerei la pubblicità, la posa pubblicitaria. Noi sul 110 di Digitale Terrestre e 195 in Veneto non ci saremo per un po' di minuti. Ci saremo invece su Facebook con la diretta di Giorgia Bortolossi così non possiamo neanche dire le parolacce durante la pubblicità. Però se volete scriverci e avete delle domande ecco qua adesso mi sto ricollegando se avete delle domande anche da porre ai nostri ospiti insomma fatelo tramite Facebook e noi tranquillamente le inoltreremo e commenteremo insieme a voi. Pubblicità? Sì, pubblicità a dopo ma non su Facebook.